A Bacu adesso, mentre si cerca un accordo sul clima, continuano le proteste sugli attivisti. Andiamo in diretta, la nostra inviata Romana Fabrizi. Sì, qui le delegazioni sono a lavoro fino a tardi questa sera per cercare di trovare terreno comune. La prima bozza di accordo sulla finanza climatica ha scontentato un po' tutti. Sono ancora molte le divergenze tra i paesi. Il segretario generale delle Nazioni Unite, Guterres, ha detto che bisogna dare una grande spinta a questo negoziato. Si aspetta per domani una possibile nuova bozza. Secondo alcune indiscrezioni potrebbe arrivare anche questa sera con la mediazione della Presidenza. Intanto qui sono molti gli attivisti che chiedono un mondo diverso. Vediamo il nostro servizio con Stefano Rogliatti e poi linea a voi. No more Hiroshima! No Hiroshima, no Nagasaki, no nucleare, gridano. Incontriamo Leona Morgan Allacop, attivista del New Mexico, indiana-navaio, o meglio, un adnè con il nome nella loro lingua. La sua battaglia è cominciata quando aveva vent'anni contro le migliaia di miniere e l'estrazione dell'uranio nei territori della sua tribù. Gli uomini scavavano, le donne lavavano i loro vestiti, i bambini giocavano tra le radiazioni, tutti si sono ammalati e ancora si ammalano di cancro, racconta e ci mostra gli studi. Tra le tante proteste che raccontano storie di colonialismo e sfruttamento, c'è anche la sua. L'uranio è una catena mortale, dichiara Leona, già l'estrazione crea danni, poi ci sono le scorie e aggiungiamo che si usa per la guerra. Sono un piccolo gruppo loro, ma molto internazionale. Giappone, Australia, Canada, Kenya non credono in chi dice che il nucleare sia energia pulita. I nostri antichi insegnamenti è scritto di tenere l'uranio sottoterra, dove si trova, spiega, la vita dei Dnep in stretta relazione con la natura, le pietre dei gioielli a protezione. Ci sono equilibri che non si devono rompere, dice, io combatto per i nostri territori, ma anche per tutti noi.